Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Un saluto da vostro Alessandro, benvenuti in questo nuovo video. Si parla nuovamente di smartphone, ma stavolta in collaborazione con Samsung è arrivato il nuovo Galaxy X Cover 7. È uno smartphone rugged, abbastanza chiacchierato all'uscita perché il prezzo faceva storcere un po' il naso. Ma a circa due mesi dall'uscita, ad oggi lui va a costare intorno ai 250€. E risulta essere uno smartphone più appetibile su questa fascia di prezzo, specialmente per chi ha necessità di uno smartphone rugged e non vuole rinunciare al marchio Samsung. Vi dico di più, lui di base esce con Android 14, ma dovete sapere che l'azienda ci va a dichiarare 4 anni di major update e 5 anni di patch di sicurezza. Incredibile per uno smartphone in questa categoria e fascia di prezzo, il resto lo vedremo subito. Quindi, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale, attivate la campanella così da non perdere tutte le prossime novità che stanno arrivando. Noi ci vediamo tra poco con Galaxy X Cover 7. Ci siamo, iniziamo l'unboxing e partiamo con l'analizzare la confezione di vendita che ve l'ha raffigurato il nostro Galaxy X Cover. In questa colorazione black e orange, ma vedete che abbiamo una confezione slim. Ciò sta a significare che non abbiamo l'alimentatore incluso in confezione. Non preoccupatevi perché lui supporta una ricarica da 15 Watt. Potete tranquillamente utilizzare qualsiasi alimentatore abbiate a casa. Apriamo la confezione e troviamo subito il nostro smartphone. Ma attenzione, andando a girare la confezione troviamo un primo cofanetto che, avete già capito, va a contenere il cavetto USB di tipo C, la manualistica, ma abbiamo un cavetto con una porta USB di tipo C doppia, quindi bene sotto questo aspetto. Andiamo avanti, vedete subito che lo smartphone ha una particolarità rispetto a tutti quelli che abbiamo già visto. Parlo sempre di smartphone rugged, qui abbiamo una specie di ritorno al passato con batteria removibile, estraibile. Possiamo addirittura sostituirla senza portarla in un centro di assistenza, quindi molto bene sotto questo aspetto. A primo impatto lo smartphone, ovviamente senza batteria, è leggerissimo. Batteria un po' pesantuccia, ma il tutto vi dico che va a pesare 240 grammi. E siamo sempre al di sotto della soglia di tutti i rugged che abbiamo già visto. Smartphone sempre pesantissimi, ma qui ovviamente non è il caso. Andiamo a vedere subito la parte posteriore del nostro Samsung Galaxy X Cover 7. Una back cover realizzata totalmente in policarbonato, così come tutto il frame. Stiamo parlando ovviamente di uno smartphone rugged con certificazioni IP68 e certificazione militare. Ciò sta a significare che lui può restare sott'acqua sia ad un massimo di un metro e mezzo per circa 30 minuti e può subire delle cadute sia ad un massimo di un metro e mezzo, ma attenzione. Oltre ad avere un corpo così resistente, sulla parte frontale abbiamo un vetro Corning Gorilla Glass Victus Plus gas resistente ad urti, graffi, polvere e acqua, ma andiamo a tuffarci nel passato e andiamo a staccare la back cover. Back cover molto resistente, ma molto molto fine. Come avete visto, possiamo staccarla tranquillamente senza utilizzare tanta forza e vedere che abbiamo anche una bella guarnizione, ma andiamo a vedere che cosa troviamo. Qui abbiamo la possibilità di andare ad inserire una singola SIM in 5G supporto e SIM, ma abbiamo anche la possibilità di inserire una micro SD per andare ad espandere la memoria del nostro smartphone sino ad un massimo di un tera. Andiamo ad inserire la batteria e quindi vi devo andare a parlare di dimensioni. Vi ho già detto che abbiamo un peso di 240 grammi, ma siamo al di sotto di tutti gli altri smartphone rugged che abbiamo già visto qui sul canale. 169x80.1, uno spessore di 10.2 mm, 240 grammi ben gestiti, non abbiamo sbilanciamenti, lo smartphone è abbastanza compatto e concreto, si tiene molto bene in mano, ottimo grip e qui abbiamo una singola fotocamera, in questo caso con un flash dual, lo vedremo più avanti e andiamo ad analizzarlo sulla parte destra. Bilanciere del volume, pulsantino di accensione e spegnimento, non abbiamo lo sblocco con l'impronta digitale purtroppo, ma anche su altri smartphone rugged non è presente. Porta USB di tipo C 2.0, non esce il video. Altoparlante di sistema in mono, microfono per le chiamate, o meglio il primo microfono perché il secondo è posto sulla parte alta insieme al jack, da 3,5 mm per le cuffie e qui abbiamo un grandissimo pulsante personalizzabile. Andiamo ora ad accendere lo smartphone, vi dico anche che sulla parte frontale abbiamo una singola fotocamera, d'altronde come tutti gli smartphone, ma abbiamo una 5 megapixel con un'apertura focale 2.0. Vediamo l'avvio dello smartphone perché dobbiamo andare a copiare ovviamente tutti i dati dal mio vecchio smartphone al nuovo. Vi dico anche in più che abbiamo a bordo Android 14 con la One UI 6.0. Attendiamo un attimino l'avvio dello smartphone così possiamo iniziare a personalizzarlo. quindi andiamo avanti, dobbiamo impostare la lingua come sempre, facciamo una cosa, io vado a settare lo smartphone, accettiamo il tutto, inserisco la password del Wi-Fi, vado a copiare tutti i miei dati e noi ci rivediamo tra poco. Ci siamo, smartphone avviato, pronto per l'utilizzo. Nel frattempo sta andando ad ultimare la copia delle mie applicazioni, sta effettuando alcuni aggiornamenti, lo lasciamo lavorare, nel frattempo aumentiamo la luminosità e vi devo andare a parlare di questo pannello. Abbiamo una unità da 6,6 pollici PLS LCD Full HD Plus con una risoluzione 1080 x 2408 pixel, 418 ppi, vado ad occupare circa il 78% della superficie, ma voglio farvelo vedere con una schermata bianca, quindi entriamo all'interno delle impostazioni, vedete che abbiamo delle cornici abbastanza grossolane, però non abbiamo una goccia tanto tanto incisinta, quindi ci si può passare sopra, ma possiamo tranquillamente anche andare a nasconderla su alcune applicazioni, possiamo scegliere all'interno delle impostazioni, ma vi dicevo anche che abbiamo un rapporto di 29 con un refresh rate solamente a 60 Hz, non abbiamo la possibilità di avere i 90, 16 milioni di colori, luminosità massima 600 nit, ma che cosa va a far girare tutto il sistema? Innanzitutto andiamo a vedere l'aggiornamento software, vediamo che cosa va a supportare per il momento, quali patch abbiamo di sicurezza e qui abbiamo un aggiornamento che è direttamente partito in download, 246 MB patch di sicurezza di aprile 2024, aggiornatissimo sotto questo aspetto molto molto bene, come vi ho detto ad inizio video, entriamo sulle informazioni del nostro smartphone, vi devo parlare di che cosa va a far girare tutto il sistema e qui abbiamo un SoC MediaTek Dimensity 6100 Plus, Octa-Core da 2,2 GHz, ovviamente 64 bit, 2x MR Cortex a 76, 2,2 GHz, più 6x Cortex a 55, a 2 GHz, un processo produttivo 6 nanometri AMR Mali G57MC2, ma entriamo all'interno delle impostazioni, vi devo far vedere un attimino di che cosa ci offre questa interfaccia di Samsung, l'avete già vista in tanti altri video, la rivediamo nuovamente, è abbastanza personalizzabile, possiamo andare a scegliere se attivare o disattivare la modalità notte, possiamo attivare persino un timer e qui abbiamo la possibilità di gestire il nostro sistema di navigazione, ovviamente vado ad inserire le gesture perché le trovo molto molto più comode, qui abbiamo la possibilità di avere una sensibilità in più al tocco e possiamo utilizzare lo smartphone anche in inverno con i guanti mentre stiamo svolgendo qualsiasi lavoro pesante, all'interno di batteria abbiamo la possibilità di gestire e poter impostare anche una percentuale che va a limitare la ricarica per far durare la batteria nel tempo, su temi qui abbiamo la possibilità di sbizzarrirci come meglio vogliamo, possiamo scaricarne tantissime, andiamo ad aggiornare persino questa applicazione ma torniamo indietro e andiamo a vedere come è possibile su funzioni avanzate andare a personalizzare il nostro pulsantino laterale, niente di più semplice, abbiamo la possibilità di utilizzarlo con un singolo tocco, con una pressione prolungata, possiamo avviare la fotocamera, possiamo impostare un'applicazione che utilizziamo maggiormente, su movimenti e gesti abbiamo la possibilità come su tanti altri smartphone di sollevare lo smartphone per attivare lo schermo, doppio tap per spegnere o riaccendere il display, andare a rispondere direttamente avvicinando lo smartphone all'orecchio, modalità ad una mano ma entriamo su archiviazione perché qui vi devo dire due cosette, a bordo abbiamo 6 giga di memoria RAM e le PDDR4X con 128 giga di memoria interna, memoria UFS, possibilità di espansione tramite micro sd sin ad un massimo di un tera ve lo ripeto, possibilità di andare a proteggere le nostre applicazioni ma abbiamo anche entrando qui all'interno della RAM la possibilità di andare ad espanderla di altri 6 giga virtuali in più e questo va a giovarci nell'utilizzo quotidiano, certo abbiamo un refresh rate a 60 Hz, un po' di effetto trascinamento lo vediamo però comunque sia lo smartphone in generale con questo processore e tutta la RAM al massimo, vi offrirà davvero un buon utilizzo generale. Non vi ho detto che abbiamo anche una sensoristica completa su questo smartphone Wi-Fi Dual Band 2,4, 5 GHz, un Bluetooth 5.3 a basso consumo energetico ma abbiamo persino l'NFC per i nostri pagamenti contactless, USB 2.0, OTG, radio FM, GPS, GPS, GLONASS, B2, accelerometro, sensore di prossimità fisico che funziona alla grande non è presente il sensore per lo sblocco con impronta digitale che su tanti smartphone vi dicevo non è presente su questa tipologia di rugged però comunque sia ci sarebbe dovuto essere o almeno tutti oramai siamo abituati o a sbloccare lo smartphone con impronta digitale o con lo sblocco sotto al display ma non avendo l'AMOLED almeno un sensore non costava nulla secondo me anche perché all'uscita lo smartphone costava nettamente di più ma andiamo a vedere anche un altro aspetto molto importante ovvero la presenza delle certificazioni wind divine di livello 1 quindi contenuti ad alta risoluzione entriamo su youtube perché dobbiamo andare a vedere che cosa ci va ad offrire questo pannello un pannello in full hd plus abbastanza grandicello un pannello che ha una luminosità vi dicevo sino a 600 nit vedremo come si comporta nel corso della recensione in esterna ora andiamo a visionare il video che utilizzo sempre ascoltiamo anche l'audio e mono di questo smartphone e poi passiamo al discorso fotocamere abbiamo ascoltato l'audio di questo samsung posso dirvi che sopra la media sopra le aspettative bello alto forte corposo ma dobbiamo andare a parlare di questa fotocamera una singola fotocamera che ha una risoluzione abbastanza importante 8165 x 6124 una 50 megapixel con apertura focale 1.8 doppio flash a led autofocus auto scatto hdr automatico manuale rilevamento del volto iso compensazione all'esposizione modalità scena video non stabilizzati 1920 x 1080 30 fps slow motion in hd sino a 120 fps ma andiamo avanti e andiamo a a visionare l'interfaccia classica di samsung entriamo all'interno delle impostazioni ottimizzazione scena possiamo eseguire uno una scansione di qualsiasi qr avvicinandolo direttamente alla fotocamera foto ad alta efficienza video ad alta efficienza hdr automatico possiamo scegliere di mantenere sempre le stesse impostazioni formati 3 quarti 9 sedicesimi 1 a 1 full qui abbiamo la possibilità di scattare come vedete 12 megapixel o 50 megapixel ma attenzione andando ad impostare 12 megapixel abbiamo la possibilità di scattare direttamente uno per due per ma attenzione andiamo ai 4 per sino ad un massimo di 10 per rimpostiamo nuovamente 50 megapixel per quel che riguarda i video abbiamo un formato di 9 sedicesimi 1 a 1 e full lasciamo il formato 9 sedicesimi e vi faccio vedere che abbiamo la possibilità di girarli solamente a 30 fps avrei preferito su questa fascia di prezzo ci fosse almeno un 60 fps ma vedremo il tutto nella recensione completa su altro abbiamo la possibilità di scattare noi manualmente in modalità pro modalità panorama rallentatore modalità notte ritratto andremo a vedere anche come va a scattare vedremo lo sfocato e qui abbiamo modalità divertimento in sostanza una fotocamera non completa sinceramente manca la grande angolare però vediamo come va nell'utilizzo generale iniziamo subito a scattare una foto così senza stare a perdere tempo ma avete visto che la messa a fuoco è veramente istantanea andiamo a scattare una foto anche alla piantina e qui vado a prendere realme 12 pro plus e scattiamo un'altra foto rimettiamo tutta la parte andiamo a a vedere i primi risultati di questa fotocamera per samsung galaxy x cover set devo dire che la messa a fuoco è abbastanza istantanea ma se non erro le foto ravvicinate non sono molto molto precise ma ovviamente sono stato lì a scattare rapidamente se vado a mettermi di impegno ne proviamo un'altra sicuramente otterremo un risultato migliore e infatti vedete qui anche la foto all'insegna non è male vado a provare nuovamente un altro scatto alla piantina attendiamo un attimino in più per la messa a fuoco e andiamo a vedere nuovamente il risultato bene cos'altro aggiungervi di questo smartphone beh sinceramente si tiene molto bene in mano bello piatto quindi nessun problema su qualsiasi superficie non andiamo a tappare nessun altoparlante perché posto qui sulla parte bassa tutto sommato si sente che uno smartphone plasticoso ma in mano si sente che abbiamo uno smartphone bello bello solido mi manca solamente andarvi a parlare di prezzo e quindi ci vediamo per i saluti finali arriviamo alle conclusioni anche per questo primo unboxing per samsung galaxy x cover set uno smartphone rag è totalmente diverso dagli altri che abbiamo visto qui sul canale innanzitutto a partire dalle dimensioni uno smartphone più slim più leggero batteria rimovibile sostituibile 4050 mAh dovremmo arrivare tranquillamente a fine giornata ma comunque se dovrò provarlo e vi dirò il tutto nella recensione completa per non parlare anche del display non è niente male pur non avendo un amoled abbiamo 601 nit e abbiamo anche un altoparlante molto buono soprattutto in questa categoria e fascia di prezzo abbiamo anche un processore che non va male peccato per l'assenza dei 90 hertz peccato per l'assenza di uno sblocco con impronta digitale però comunque sia a qualcosa dobbiamo sempre può rinunciare non tutti gli smartphone sappiamo benissimo che sono perfetti ma attenzione andiamo a parlare di prezzo allora lui inizialmente costava 379 euro all'uscita trascorsi due mesi il prezzo scende e adesso diventa molto interessante intorno ai 260 euro vi lascio il link qui sotto in descrizione uno smartphone che è sì diverso dagli altri ma soprattutto è di casa samsung abbiamo una garanzia di quattro anni per quel che riguarda gli aggiornamenti di sistema operativo cinque anni di patch quindi tanta affidabilità io vi ringrazio per il vostro tempo ci vediamo ovviamente la recensione completa come sempre vi invito ad iscrivervi al canale attivate la campanella così da non perdere tutte le prossime recensioni ovviamente ringrazio l'azienda per la collaborazione per avermi dato la possibilità di portarvi questo nuovo samsung x cover 7 in test e noi ci vediamo ad un prossimo video